9, 31, 50, 65, 77. Non sono i numeri dell'otto, ma se volete giocarli fate pure. Alla Triestina non hanno portato bene, ma magari qualcun altro potrebbe essere più fortunato. Quelli infatti i minuti in cui l'Unione ieri ha preso gol dal Padova. Cinque marcature per i Veneti che hanno così interrotto il cammino in Coppa Italia dei Giuliani. La cronaca della partita. Nove minuti dopo il calcio d'avvio, Zivkov punisce da fermo Perisan con un mancino deviato a rete dalla barriera. La partita è in mano al Padova che trova in Perisan al 23esimo l'ostacolo decisivo per portarsi sul 2-0. Raddoppio che però arriva alla mezz'ora con la deviazione di Russo su calcio d'angolo. Colpo da opportunista in area piccola e palla nel sacco. L'Unione si vede appena a due minuti dall'intervallo con un cross di Hidalgo che però non incrocia nessun compagno. Il rientro in campo non cambia, il copione visto nei primi 45 minuti di gioco. Il quinto minuto infatti Chinellato firma il Tris, spedendo di forza in rete da distanza ravvicinata dopo una gran parata di Perisan su tocco sotto misura di Zampataro. Giuliani quasi al tappeto, passano 5 minuti e Pozzebon spara alto dopo un controllo di petto. Tempo di ribaltare l'azione e arriva il poker padovano con Mazzocco lasciato solo sul palo lontano. Chiude i conti Cisco che firma il quinto gol col destro trovandosi a 2x2 con Perisan. La Triestina non salva nemmeno la bandiera, non che fosse necessario, e termina la sua corsa ai sedicesimi con una serattaccia da archiviare al più presto, concentrandosi alla partita di domenica a Rocco quando la Triestina ospiterà in campionato il Gubbio.